Nell'ultimo periodo i militari della compagnia carabinieri di Castelvetrano hanno applicato alcune misure restrittive della libertà personale per reati di varia natura, in conclusione di altrettante attività di indagine ed effettuato arresti in flagranza di reato. Più nello specifico, il 14 febbraio a Castelvetrano i militari del dipendente nucleo operativo e radiomobile guidati dal capitano Antonino Maggio eseguivano notificandola all'interessato un'ordinanza che disponeva la misura degli arresti domiciliari emessa al Tribunale di Marsala, ufficio GIP a carico di Diaby Maravodwai. Nato in Mali nel 1998, residente a Santa Linfa, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, resisi responsabile del reato di atti persecutori, stalking. Nonostante la misura cautelare applicata, il giovane si rendeva responsabile di evasione degli arresti domiciliari per ben due volte e nella circostanza veniva nuovamente tratto in arresto. Da ultimo, il 17 febbraio, gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere come aggravamento del precedente provvedimento disatteso. Sempre giusta ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, il Diaby veniva dunque condotto preso il carcere Pietro Cerulli di Trapani, dove risulta ancora ristretto. Il 15 febbraio, in Castelvetrano, i militari della dipendente stazione, sotto il comando del luogotenente Gaspari Maurizio, traevano in arresto Catalanotto Tatiana, 22enne, castelvetranese, casalinga e già nota agli uffici giudiziari. Alla predetta veniva notificato un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dovendo espiare la pena detentiva di 5 anni e mezzo di reclusione per rapina in concorso, furto con strappo, ricettazione, evasione e altro. L'arrestata terminata alle formalità di rito veniva associata presso la casa circondareale Pagliarelli di Palermo. Nella mattinata del 19 febbraio, a Gibellini e militari della stazione, agli ordini del luogotenente Salvatore Monteleone, traevano in arresto Calandrino Angela, la Gibellinese 42enne, disoccupata e nota alle forze dell'ordine, la predetta a seguito di un controllo effettuato unitamente al personale e nella distribuzione S.p.a. risultava soffrire arbitrariamente di energia elettrica presso la propria abitazione, prelevata tramite cavi portanti dalla rete elettrica pubblica e dopo le formalità di rito veniva messa prima a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca e successivamente rimessa in libertà. Nella nottata di domenica 23 febbraio in appoggio reale, infine i militari carabinieri traevano in arresto Catania Francesco, giovane 36enne di Siculiana, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, giusto provvedimento emesso in data 7 marzo 2019 dal Tribunale di Caltanessetta, il Catania veniva sorpreso ai piedi sulla statale 624 e all'atto del controllo forniva false generalità. A conclusione delle necessarie inconvenze burocratiche veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.